Signori siamo in diretta da Villa Guastamacchia, direttamente da Villa Guastamacchia abbiamo l'orchestra Che Chitarra, guardate, c'è chitarra, c'è chitarra, c'è chitarra, Antonio Conversano, il solista, Franco Di Leo, Mimmo Poviglia, Andrea Buongiovanni, Stefano, Alfredo Alcaldo, Felice, Parunco, Perfuscio, Leo, Tulipano, il grande maestro di Chitarra, Antonio, il barone Nicola Cassidese, qui abbiamo, è tutto un uomo, ballerino, è qui, a Wazmarino, grande canzone, lei è, signor, si chiama? Come si chiama? Vincenzo, in passato si chiama Vincenzo, l'anno scorso, quest'anno Vincenzo, E qui abbiamo, Marechiar, Marechiar, Ruggir, Dino, Gino, Gino Marechiar, Allora, Guast, 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 musica Bellissimo, Antonio Hey! I'm good Wapah Waste of mine There's some hell in Move back You can have me shouldn't have a foot back Let's go Let's go Anche le cicale fanno coro Sentite come vanno a tempo le cicale Senti che le cicale A tempo La natura, l'arte, la musica Si sposa tutti insieme In questo momento Compreso il regno animale Guardate che spettacolo Guardate che artisti Questi sono artisti che sono dal vivo Non sono autodidatta Sono maestri Di più Qui ci chiedono Qui ci chiedono Un bis, un'altra canzone Un bis Andiamo avanti Andiamo avanti Fateci delle richieste Se avete delle richieste In diretta le facciamo La parmigiana La parmigiana a cappuccino Che è che Allora Menù del giorno Patate, ricce e cozzo Menù? Spaghetti con peperone Alla tranes Spaghetti con pomodoro Alla tranes Spaghetti con pomodoro Spaghetti con pomodoro Spaghetti con pomodoro Spaghetti con cozzo Spaghetti con pomodoro Ah, questa sì che è il menù Patate, ricce e cozzo Due patate, ricce e cozzo Spaghetti Un brood Un brood Un brood Leo, che cosa prepara il menù oggi? Le vanpe con i ceci A posto Questa è fantastica Vai Spaghetti con le cozzo Abbiamo quattro spaghetti Barone A sorpresa Spaghetti Yoshi è una sorpresa Spaghetti alle mongole Bah, un dolce, dolce Amo arrivato domani Pagioline e maccheroni Attenzione agli scoppiettoni Beppino Risso, patate e cozzo Pure, solo tre a tre Quattro Spaghetti, tre risso, patate e cozzo E solo un di Spaghetti Il brood Il salatino La pazzina di cappella Spaghetti con la chitarra Spaghetti alla chitarra E' 300 euro Che cattro me Che cattro me Tenta, tu non fa differenza Allora, signori Mi hanno fatto una richiesta Mi vogliono ascoltare Malafemmina Malafemmina Chi è il cantante oggi? Peppino Vai Peppino Vai A te Peppino Vai Mi raccomando Le parole che dite Che sono tutte registrate Parole sane Maestro 3, 2, 1 Musica Dettagli tecnici Dettagli tecnici Sono solo dettagli tecnici Ovviamente noi vi invitiamo A seguirli Tutti i giorni Siamo a Trani In Villa Guastamacchia Al centro polivalente In via Sant'Anibale Maria di Francia Via Corato A Trani Si stava preparando Per cantare Malafemmina Ma un dettaglio tecnico Ci ha sospesi Momentaneamente L'esecuzione musicale Sentiamo che cosa sta accadendo Ho trovato Tutto le corte a vendare Avete perso la nota? Cerchiamo la nota Per terra Qualche nota per terra È andata È caduta Hanno andato a scordare Ho trovato Tutto le corte a vendare Ma proprio Riaccordiamo Riaccordiamo Un imprevisto Un imprevisto? Vai Parte Parte maestro Metti in pausa Per il momento Signori Siamo in pausa Vuole sapere Chi sta guardando Adesso La diretta Nel frattempo Vi faccio vedere L'orto botanico Guardate L'orto botanico Di Villa Guastamacchia Che bella realtà Che c'è La tossica pronta Eh Faccio vedere Un po' di verde Qui abbiamo L'area giochi L'area giochi Ecco qua Guardate I bambini Possono venire A giocare Tranquillamente Lì abbiamo La pista da ballo Compreso anche Una struttura Da poco Inserita E qui abbiamo E qui abbiamo il Un po' di verde Grazie.